Ciao, come state ragazzi? Io sto molto bene, sono emozionato, domani alle 12 esce la prima puntata del Collegio 6 Però questo è un video diverso, un video sfogo, sì come ho scritto qua, ma in realtà è un video strano Perché voi siete sempre abituati a vederci fare casino, a vedere fare le reaction, a insultare questo qua, sto pelatone E mai a parlare con voi direttamente a cuore aperto Devo chiedere scusa a Red Nose, perché Red Nose non sa di questo video Però è un video un pochino più sentimentale, un video un po' col cuore in mano Perché voglio ringraziarvi di questi bellissimi anni, di quello che abbiamo fatto insieme Dal Collegio 3, da Ex on the Beach inizialmente, da questo format delle reaction a episodi Che è nato qui e che poi tutta YouTube Italia ha ripreso E per me questo è motivo di orgoglio, io sono veramente gasato di questa cosa Vuol dire che è un format che ha funzionato, format che tanto tutti detestavano Ci hanno insultato perché portavamo le reaction e adesso tutti la portano Io sono contento di questo e devo dire grazie a voi ragazzi Perché voi siete il motore, siete quello che può tenere in piedi questo canale Soltanto grazie a voi, quindi grazie ragazzi per averci supportato anche nei momenti più bui Nel momento della separazione con Jodie, nel ritorno, nei vari deliri, negli alti, nei bassi Come tutti i canali hanno fisiologicamente Ci tengo anche a ringraziare tantissimo il mio socio, Rednos, che non sa niente di questo Ma voglio dirti Red che in fondo io ti voglio bene E mi hai sempre dato una mano pazzesca Lo sai che io cerco sempre di essere quello forte, che manda avanti tutto Però devo veramente ringraziarti perché la mia sanità mentale Noi ci scherziamo sempre, no? Tu mi dici che mi fai venire i capelli bianchi Ma in realtà sei molto importante per il nostro lavoro e per la mia vita Quindi grazie mille E che dire di altro ragazzi? Sono qui oggi anche per dirvi Che probabilmente questo collegio sarà l'ultimo collegio che porteremo su YouTube Un po' come The Last Dance, no? Alla Michael Jordan Perché ne abbiamo fatti già quattro Collegio 3, collegio 4, collegio 5, questo sarà il sesto Probabilmente sarà l'ultimo Mi sento che sarà così dentro di me Mi sento che ci saranno tantissime altre cose A noi, cioè soprattutto a me piace commentare Io lo so fare, lo so fare, mi trovo bene a commentare le situazioni Ormai il mio lavoro, i programmi televisivi sono il mio pane E sono contento di questo Il collegio è un format che è tanto presente sul nostro canale Perciò vedremo, vedremo Intanto godiamoci questo collegio 6 che uscirà domani Alle 12 sul nostro canale YouTube Col trio, senza il trio, chi lo sa Collegatevi domani alle ore 12 e lo scoprirete Io sono molto emozionato E ho un po' la cosina alla gola Perché ripensando tutto quello che abbiamo fatto Sono felice di questo Sono felice di tutto questo Sono felice di far parte del web Quindi grazie ragazzi A domani